Che cosa può rappresentare la piscina di Taggia per uno sport come la pallanuoto? Sicuramente un elemento di crescita per i giovani, non solo nello sport ma anche nella vita. E poi parliamoci chiaramente, speriamo che da questa piscina riesca comunque a venire fuori un mio compagno di squadra, ce lo speriamo tutti. Che progetti avete per quanto riguarda la pallanuoto in questa struttura? Questa struttura chiaramente di creare una piccola squadra, partire comunque dagli acquagolle e far avvicinare comunque i giovani a uno sport bellissimo come la pallanuoto. I valori della pallanuoto? I valori della pallanuoto sono i valori che deve secondo me avere la crescita e la vita in sé, quindi impegno, dedizione e voglia.